Nel 2012, oltre 8.000 imprese si sono rivolte ai centri per l'impiego della provincia di Torino per trovare le figure professionali più adatte alle esigenze aziendali, ricevere consulenza sugli incentivi all'occupazione, sui contratti di lavoro e sulla nuova normativa. Efficace. Veloce. Gratuito. Rivolgiti al centro per l'impiego. Il servizio su misura per la tua azienda. Per informazioni, provincia.torino.gov.it Campagna cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo.